Lo stucco acrilico, Decoro Decoro è una finitura arricchita dei particolari riflessi tipici dell'oro e dell'argento, realizzabile senza problemi di riprese e ritocchi. Sulla parete preparata con cebossi fondo, dopo aver applicato una prima mano con frattone in plastica, esteso in modo uniforme una buona quantità di prodotto per circa 2-3 metri quadrati, si rasa fino ad ottenere una superficie perfettamente liscia. Ad essiccazione avvenuta della prima mano, dopo circa 4-6 ore, si applica la seconda mano per creare la decorazione desiderata. Grazie a tutti!